Sbreezer ha sentito un boato e è andato a controllare perché non ha minimamente idea di cosa possa essere stato E scoprirà che una ragazza Flash è in pericolo per via di un, ehm, Silverfish? Vabbè sì, lasciate perdere, perché sarà un pretesto nell'innamorarsi di Sbreezer Ci aiuterò a fare un sacco di cose proprio per la sua mega velocità E tu chi preferisci tra Flash e Batman? Scrivilo qua sotto nei commenti perché metterò il cuore Ok, perfetto, prendiamo la lana, ottimo E dai, beconelle brave, crescete, crescete pure che la vostra... Oh cacchio, mi sono scordato di te Non bisogna scordare nulla qua dentro Ok, perfetto, oh cacchio, non riesco a chiuderlo Ok, perfetto Ok, allora, mettiamo la lana, ottimo, mettiamo pure questo, perfetto Così abbiamo un sacco di lana blu che mi servirà per continuare Cosa cavolo è stato questo suono? Ehm Ehm Ragazzi Ragazzi bombardamento, non lo so, eh ragazzi Uscite Eh, che c'è a Sbri? Ehm Succede? Ti sei fatto male con le tue stesse piante, Elox Vabbè, comunque, senti un attimo C'è questo suono, un suono strano? No È tipo una sorta di esplosione No, non ho sentito niente Oh Come niente? Era, proveniva proprio da lì, tipo, dalla superficie Non ho sentito il boso, non ho le mie cose Cosa? State scherzando? Oh mio Dio, ok, va bene Ok, allora, vado, vado, vado Sì, vai a dare un'occhiata Eh, andiamo No, 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 no Io c'ho da fare Io sto spiegando di sistemare delle cose Eh, sì Esatto, dai Va bene, allora vado da solo, vado da solo Vai, vai Aspetta, fai mettere un'armatura decente almeno Perché altrimenti io non, onestamente, non è che mi ti... Cosa mi prendo? Prendo quella in ferro, quella in oro o quella in diamante? Quella in diamante? Non lo so Prendiamo quella in... Prendiamo quella in diamante Prendiamo quella in diamante, sì Quella in diamante Quella in diamante che mi serve Ok Uno Due Ok Tre E poi quattro Ok, perfetto, perfetto Molto meglio, molto meglio Mi sento molto più sicuro adesso, ok Allora, andiamo Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Allora, aspetta Non dovrebbero essere... Non dovrebbe essere un problema, ok? Cioè, nel senso Di sicuro non sarà che tipo Uscito, no, so Un mostro che esploda adesso, no Poi Era un suono strano Era un suono davvero strano Mmm Oh mio Dio Ah! Ah! Aiuto! Ah! 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 Cos'era? Era esploso Dietro quell'albero Oh mio Dio C'era qualcosa Cos'è successo? Esplosa l'aria No, non esplodono le cose a caso Esploso qua Era esploso Me lo ricordo Oh mio Dio Ok, ok Devo andare Devo andare Sopra Sopra la montagna Per andarlo a vedere meglio Questa situazione Perché mi sto letteralmente Impaurendo Pochettino Pochettino Eh No, 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 no Non mi piace per nulla Questa situazione Ma proprio per nulla Ok Andiamocene Andiamocene ancora più sopra Magari trovo qualcosa Ok Perfetto Ottimo Ok Ora sono proprio il contrario Di dove ero messo Quindi adesso sono proprio In superficie In superficie Ok Sembrerebbe che non ci sia niente Eh Che cos'è Chi è quella Oddio Oddio Ma Che cos'è quella cosa rosa Che corre È un nuovo mob Oddio Magari mi dà Mi dà le cose in più Magari Andiamola a vedere Andiamola a vedere Ok 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 Oh mio Dio Magari Magari un nuovo mob Magari Non lo so Mi dà qualcosa di raro Proprio Darsi eh Magari un nuovo aggiornamento Che non me ne sono accorto Di Minecraft Io non mi metto a vedere I video di aggiornamenti Cioè Che c'è Che c'ha boia Magari Magari è qua da qualche parte Eh No no L'ho persa O l'ho perso Non lo so Sembrava rosa Comunque Cioè nel senso C'è qualcuno Non c'è nessuno Oddio Eccolo lì Eccolo lì Ok Adesso ci andiamo pian pianino E aspettiamo Che Si ferma Eccolo 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 Lì 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 Oh cavolo Quanto va bene È velocissimo Ok va bene Ok Era andato verso questa parte Eccolo 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 Ehi tu fermati Dove cavolo è andato Fermati Fermati cosa stai facendo Ma chi sei Sto scappando Ma sei una ragazza Sì Ma che cosa Da cosa stai scappando Scusa Da 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 quello Eh Che cosa Eh 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 Ah Da un silverfish Ti vanno Ti vanno schifo Ti vanno schifo i silverfish Vedi che sono carini Non ho paura Ok Te lo cito io Te lo cito io Tranquilla Eh Ok M'ho morto Grazie E' andata male la nostra relazione Purtroppo Ho capito Ho sentito un boato Ho detto Ma cos'era Devi te magari A fare questo boato Sì E' questo Guarda Io corro per un lungo tratto Un attimo Mi carico Mi carico E Cosa Ah Le orecchie Cavolo Non sento più nulla Eh Ho capito Ho capito Ho capito Eh Ma non Ma for che mi sei Se non sei scappata Vabbè Tanto la incontrereò Sicuramente a casa Mi arriva addosso Ok Eh Se ti sei Arrivami addosso Eccola là Ah Assurdo è lì Eh Ciao Ok Tranquilla Ok No Ok Fai una cosa Ok Va bene Quella cosa che hai fatto prima Non farlo più davanti a delle persone Perché altrimenti li estordisci Oh Davvero Sì Sì Davvero Ok Comunque Vuoi venire a vedere casa nostra Non sei un nemico Non sei una minaccia Vero No Non sei una minaccia Sei sicura No Non sei una minaccia Tranquillo Va bene Va bene Allora Andiamo qua dentro Ok Ha detto di nuovo Vabbè Senti ormai l'hai fatto Oh Oh Ferma Aspetta un attimo Devo presentarti Non puoi farmi Barire davanti alla casa degli altri Così a caso Ok Oh Scusa Allora guarda questa Noi abbiamo un villaggio Dentro una caverna Allora questa è casa mia Ok Sì Ciao Elox Ti presento Flesha Ciao Ah Sì È una donna È una donna È una donna Non è uscita Non lo so È un'amica Cioè è un'amica Nel senso L'ho incontrata così a caso Girando nel mondo È lei che faccia il boato Ti rendi conto Ancora con questo boato L'hai sentito solo tu quel boato No Ti giù No Non lo so È uscita la porta Come solo tu sai fare Ok Ah Hai visto Hai visto Che ci ho detto Che ci ho detto Che ci ho detto Che ci ho detto Ah Ai 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 Ma che Eccomi Ehi Non puoi fare queste cose Dentro una caverna Ribbomba tutto Sei scema Ah vabbè Effettivamente sì Ma me l'ha detto lui Cioè ci Ci spacchia l'orecchia A tutti Ma se ti dicono Ti butti dal ponte Vabbè Non ce ne esageriamo Dai Dai appunto Non ho senso E poi io lo lascio fare Vieni qua No ma cosa che fa Con il mio cibo Ma vai a casa tua Vabbè Non si dai Una zuppa Come altre Easy O che cos'è È una zuppa Magari ti piace Quanto di cosa Eh Zuppa di funghi Sì Zuppa di funghi Mmm 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 Dove presentate più con lui Un grande franno Di flash Di tuo marito Aspetta Ok Oh Ah Vieni a vedere La reazione È questa Sì è questa qua Alla casa sua Ciao Ciao Luca guarda cosa ti ho portato Ti ho portato la moglie di flash Che è impossibile Guarda Allora esci come solo tu Sai fare Di nuovo No 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 Perché cazzo Aspetta 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 Pappa delle orecchie Ma che stai dicendo 3 2 1 3 Ecco hai capito Ma come cavolo è possibile Dove l'hai trovata Eh beh in realtà L'ho trovata così a caso Nella foresta Incredibile a dirsi Veramente Come E flash dov'è Flash Non diri questa cosa È triste Ma che è Tranquilla 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 Che ho fatto Che ho fatto Trucco si è lasciata con flash Esatto sì Ma che ne potevo sapere Ma l'ho detto Piaggine la mia spalla Piaggine la mia spalla Piaggine la mia spalla Ok Allora Tranquillo Mi dispiace Eh no 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 Trucco Non dire più questa cosa Va bene Ma che ne sapevo Sei troppo sfacciato Luca Io l'ho sempre detto Ma che è in casa Guarda questo Ma che schifo Ma che schifo Ma che schifo Ma così facciamo La linea tela di Spider-Man Versione Morbo Vabbè ascolto Ma io non sono Spider-Man Lo so Lo so Immagino che c'è una grande rivalità Tra voi Abbassanza Allora Sentito un attimo Allora Possiamo tenerla Cosa Ma che sono un cane Possiamo tenerla Esatto Cosa è un cane C'è una zona Che non è ancora Allestita per bene Però c'è un gel È carina Secondo me ti può piacere Se ti è piaciuta Ah quella sotto Sì Se ti è piaciuta La zuppa di funghi Ti può piacere pure questa Vieni pure Ah Eh Vabbè Non c'è gusto Questa qua mi supera Perché mi sei Arriva veramente Questa Eh io voglio far vedere La fontanella di sto cacchio E invece no Questa qua Ti piace? Allora qua c'è le mucche C'è un piccolo laghetto Freddo Esatto E qua c'è un Falò Ma ci sono degli oggetti Di qualcuno? Eh no In realtà no L'abbiamo messi così Giusto per Però puoi usarlo te Magari Te li sistemi per bene Eh E qua c'è un letto Sopra il fungo Guarda che carino Aspetta Devo tirare Ok Se vuoi rimanere qua Non devi fare quelle cose Che scoppiano Esatto Ma non è colpa mio Cammini più lentamente Esatto Esci Magari Magari Ma di tipo Prova a correre Da abbassata Da shiftata Aspetta Non riesco ad uscire Che cavolo Ma di cammini a saltare Allora Ok Ah ok Proprio così Ha rotto la stagione Ok Prova a correre Così Vabbè Non è il stesso passo Hai visto Guarda Non proprio Vieni qua Vieni Andiamo Andiamo fino a casa di Grucco Vai Hai visto Andiamo bene Che bello Finalmente mi ho trovato Un modo per restare con lei Ah sì Ferma Vabbè Vado un attimino fuori Ah Annaggia Porca miseria Ma come cavolo Ti avevo detto di non farlo Vabbè Comunque Adesso ad ora Te ne occupi te Io non voglio Grattacabi Esatto Beh ragazzi Il fatto è che magari Quando dormiremmo Se sentiremo D'un boato È normale Perché magari Lei deve farsi Dall'entrata della caverna Fino a sotto Quindi beh Si fa una passeggiata Eccomi Ma che sei pazza Che ci riesci così Ho portato Del cibo Del cibo Come che vuoi l'hai fatto Ho detto Oh grazie Mia 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 No dovete dividerla Ehi Ecco Ok Hai presente quella cosa che dice Se tipo prendi a pizze Un pollo crudo Tipo Così tanto veloce Per così tanto tempo Che lo puoi cuocere Ah Davvero Ah quindi lei ha picchiato così tanto velocemente Le mucche Che poi si sono cotte da sole Ma Dici Wow Che figo Eh autocombustione Ci sta Ok va bene Allora Fai una cosa Allora fammi a prendere Ehm Mettiamoci alla luce Che non vedo un cacchio Ok allora Scusate Vai a prendere Un pezzo D'ossidiana Dai all'ossidiana è difficile Ah Mannaggia Ok Devo farmi dei tappi dell'orebbero le orecchie Che anche per me grazie Eh appunto Marche di sera Veramente Ok Però dai Eccoci Il gioco Ah è arrivata Uno due tre quattro cinque Quante ne prendi Cinque Oh mio dio Ah sì Figo Ok allora vieni qua Vai Ok Dai nel 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 Eccolo Se non può Non può essere così tanto veloce anche nel nether Che devo fare Nel nether Vammi a prendere Ehm Cosa può andarmi a prendere nel nether Immaginiamo Ehm Le tre testi delle wither Ah le tre testi delle wither vai Arrivo Ah Ha deciso la data Oh cacchio Ma neanche aspettare il tempo Nel tipo Stare lì capito È vero Il teletrasporto del nether Ti hai fatto mangiare dal portale Ma poi tre secondi così Non hai neanche aspettato Vabbè adesso Andrò a cercare Cioè non crede può andare in mezzo Alla 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 walk bar Ma di che stai parlando No Eccomi Uno due tre Mi prendi in ciro Ah impossibile Hai trovato anche la nether fortress così Ah sì Sì però l'unico problema è che quando mi sono teletrasportata Si era creato un altro portale Quindi ho dovuto fare un giro di altri portali Quindi ci sono stato tanto In che se si è creato un altro portale Sì 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 poi facciamo Uccidiamo il with our boss Ma non ho dei diamanti Cosa? Non ho diamanti a farmi l'armatura È rischioso farlo con l'armatura in ferro Non è l'armatura in diamante ancora? Non mi ricordo Aspetta Eh soffundiamo Io ho solo 10 diamanti ragazzi E non hai l'armatura? No Aspetta Fami andare a vedere Ma che sei stupido Secondo me sei scemo e non la trovi Ma davvero non c'è l'armatura? Non l'ho mai messa Eh ragazzi non ho avuto il tempo per andare in miniera Porca miseria Ok va bene Senti un attimo ok Allora tranquillo Facciamo Ma c'è la ragazza idiota Ragazza Sì glielo chiediamo a lei Perché c'è l'armatura Ma la Lara ci va a trovare subito i diamanti Oh cavolo è vero Corri Ehi 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 ragazza Ciao Ciao Allora Senti un attimo Scava un buco ok E cercaci E trovaci dei diamanti Ti prego Ma qua lo devo scavare Sì sì E prenditi pure questa questa qua Ok E adesso scavi sotto 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 E crei un full set di armature di diamante Ok Ok arrivo Vai Fai attenzione Oh mio dio Siamo attenta perché siamo già in fo Va bene Caccio È bellissima Vai no È proprio brutto da qua No 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 Nono che mi è lontano Cioè come va a salire adesso Eh Allora Ti facesse comprare da un'altra arte tipo così a casa No sarebbe troppo bene No boh Piedi veloci credo che siano più che era così velocemente ai muori per salire Ma dici no non credo Cioè non è che È una delle donne più veloci al mondo E non è che Allora fai salti più veloci al mondo E salta più alto del mondo Cioè dai È un po' più normale È sempre la moglie di flash Era La moglie di flash Arriva da qua Non lo so Prova a chiamarla Ma come faccio a chiamarla idiota È che ha ne so urlo Flash Flash No che le sei andato piuttosto lontano No mio dio Chissà che quanto sarà lungo allora quel buco Porche miseria Vabbè Arriverà prima o poi Eh sì Prima o poi secondo me Sì dai Eh che facciamo nel mentre? Eh nel mentre Ah ma qua c'è un gioco di diamanti Ragazzi eccomi Ma da dove dove sono uscire sei? Ah sono dovuto uscire da altre parti allora Ma che cosa ci vuoi qua? I cappelli Eh C'è Splay I pantaloni Eh questi qua Beh ancora io non so volare quindi Ah Giusto Vabbè flash non vola Eh no Eh già Ma li ho troppati dove sono? Non li ho buttati No Non li ho buttati Non li ho buttati Sì che li ho presi così velocemente Che neanche me ne sono accorta Allora Armatura Questa qua Eh a chi manca? A me servirebbe l'elmetto e il Corpetto Ah sì sì infatti Ok tieni Che figo Wow Oh mio dio Ma com'è possibile una cosa del genere? Siamo già pronti ragazzi siamo già pronti Devo prendere il restante da casa mia Ancchio Vai 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 prendere il restante io vado a casa E ci facciamo una bella partitona contro il Wither adesso Sì Ah c'è un Kramer Attento 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 Aspetta l'ho uccito io E lo fai morire Ah c'era 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 fatto male No Eh vado vado da casa mia E vado a Scusami Sti zombie Annaggia A me Ok perfetto Allora Quindi Devo In teoria Prendermi la spada Spada in diamante No 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 Spada in diamante Guarda che miseria Non è possibile Ma i diamanti Non ho neanche diamante Ho almeno due Ok va bene Mi faccio qua Questo Ok Crafting table Where are you? Crafting table No 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 Crafting table Magari l'ho rotta Quando andero fuori Non ho più felita Va bene Facciamoci una Crafting table Allora Ehi ragazzi Allora siete pronti voi? Sì Elox scusami Elox Non l'ho fatto a posto Ok Che è successo? Ma Elox Ho fatto esplodere un creeper Davanti casa Vabbè dai capire Ragazzi Sarà pronto Ragazzi Perché siete così lenti? Dai Non siamo come te Flash Eh Sì vabbè Andiamo Ok dai Andiamo 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 Voglio vedere onestamente Come lo distrugge il Witherlay Aspettate Ma c'è un problema Cosa? Noi abbiamo le teste Ma ci manca il corpo Giusto Flash 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 E qui fuori Che c'è? Vai a prenderci Quanti sono? 4 4 pezzi di soul sand Ti prego Ah sì Vai 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 La terra delle anime Dovrebbe essere di lì Perché? Vevo fatto un portale nel nether Anche di lì Un attimo Facciamo prendere Nel Ah sì Vabbè Fala andare Fala andare Fala andare Ok Noi dove lo creiamo allora il Wither Io considero di andare Magari sopra la montagna Sopra la montagna Meglio 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 Sì Sì Che bella Per Esatto Ok Ottimo Avete visto ragazzi C'è con Flash Siamo già arrivati al Wither Dove ancora distruggere il Dreader Dragon Però ci sta Vabbè dai Che fa tanto Prima uno o l'altro Un attimo Un attimo Un attimo È un po' difficile Tieni qui sopra Ok Ah sì Ok Vi stiamolo qua Lì? Sì sì Sembra proprio un piano di battaglia questo Ok perfetto Dai Dove siete? Qua 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 Era così Era così Perché non va Eccolo Che lento Ok Cavolo Prendetelo 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 Aspetta Voglio vedere Come lo uccidi Mi prendi un giro Dove è andato? L'ha ammazzato Cosa? C'è il cristallo almeno Come l'ha ammazzato? L'ha ammazzato Allo Cos'ha? Io no Cos'ha? C'è stato un po' Veloce No perché guarda Guarda questo maiale Guarda questo maiale Ma allora il diamante Guarda 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 Guarda